Ciao a tutti da Michela, ciao da Fabio, vediamo un altro esercizio di ginnastica facciale, in questo caso ci focalizziamo sul rilassamento della pelle che si verifica sulla parte laterale del viso in corrispondenza dell'orecchio, della parte bassa dell'orecchio, quindi sotto il lobo praticamente. Ci senti come sei seria, sei molto concentrata, questo è un esercizio particolarissimo. Lo sento tantissimo, allora andiamo ad afferrare il lobo dell'orecchio e lo tiriamo indietro e verso l'alto facendo una tenuta di pochi istanti, pochi secondi. Ecco qui vediamo un dettaglio dell'esercizio. Vediamo proprio le dita scorrere lentamente sul lobo, quindi andarlo a rilasciare molto lentamente, mantenendo una pressione comunque costante per qualche secondo, che va allungando il rilassamento in corrispondenza dello zigomo. Infatti si vede la pelle che si tira. Di questi quanto ne facciamo? 10 ripetizioni. 10 ripetizioni. 10 ripetizioni, si arrosserà un po' l'orecchio, ma insomma, paziente. Poi passa. Poi è di peggio. Ne vediamo un altro adesso, una variante. In questo secondo esercizio invece andiamo ad allungare sempre l'orecchio, ma afferrandolo nella parte più esterna e tiriamo indietro e sempre verso l'alto con il braccio opposto rispetto all'orecchio che stiamo allungando. in pratica, no? C'è ancora un allungamento del braccio destro in questo caso, del muscolo tricipite. Sì, non è voluto, diciamo. Però c'è. Però c'è. Volendo essere pignoli. Ma sì, quindi tutto sommato è un simpatico effetto collaterale. Sì, sì, certo. Ora, al di là delle espressioni molto serie che ho in questo video, comunque non è doloroso. No, no, è solo concentrazione quella. È solo concentrazione, sì, sì, è vero. Dettaglio. Dettaglio anche qui. È un pochino più, diciamo, è leggermente diversa l'inclinazione proprio del movimento rispetto all'esercizio di prima. Sì, viene preso l'orecchio più pieno. Mentre prima il lavoro sembrava più concentrato sul lobo. Esatto, esatto, esatto. Quindi era anche un pochino più basso il lavoro. Qui è un pochino più alto, se vogliamo. Anche qua 10 ripetizioni per l'orecchio. Sì, assolutamente sì. Bene, bene. Continuate a seguire i nostri esercizi per ginnastica facciale e non solo. La prossima volta parleremo di capelli. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao, ciao. 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 Ciao.